Ciao ad Alessandro di 4W d'Italia, oggi andiamo a vedere una vettura che a me sta molto a cuore, mi piace tantissimo, è un Cirocchi XJ del 1987 con il motore 4.000 benzina e il cambio automatico, secondo me è una Jeep che tuttora rimane un daily driver, una macchina molto molto elegante, questa è ancora in fase di restauro, siamo abbastanza indietro, è stata ferma a 15 anni in un garage e l'abbiamo riportata in vita, adesso il motore gira perfettamente, stiamo rivedendo ancora le parti di carrozzeria, abbiamo giusto cambiato i pneumatici perché erano un po' troppo d'epoca e pian piano andremo a rivedere tutti quelli che sono i problemi che ha sulla carrozzeria, sugli interni perché dovremmo rifare anche il cielo, questo è il cielo, alcuni particolari dell'interno che adesso sono smontati e che dovremmo riassemblare, il cielo andrà foderato e quindi come dicevo è ancora abbastanza in lavorazione. Rivedere un po' la tapezzeria, diciamo che è ancora un po' indietro ma stiamo iniziando a vedere la luce, secondo noi il risultato finale sarà veramente eccellente. Ecco questi sono gli interni che sono per l'epoca molto molto lussuosi con la chiusura centralizzata, i vetri elettrici, cose che per l'epoca non erano proprio così comuni, secondo il mio giudizio sono favolosi. Sono un po' di roccati, dobbiamo ancora sistemarli, però diciamo che la base è buona, ha del potenziale. Se hai una jeep d'epoca come questa e che ha bisogno di cure, la nostra officina di Valle Europa 75 a Cusago è a tua disposizione, puoi contattarci via telefono o whatsapp al numero 338 73 12 725. Saremo lieti di prendercene cura.